Dittura Richard ha anche Luca Ward doppiato da quello che vuoi dire. Vabbè... Luca Ward farà anche Cyberpunk. Questa è vicinissima. No, la batteria di Bershock si sta scaricando. Ma te ti si scarica di continuo la batteria di Bershock? Aspetta, quello cambio qua è meglio. C'era una Vespa bastarda. C'è anche quello che aveva fatto Heavy Rain. Come si chiama. Comunque i proiettili delle scatoline che te puoi prendere lampeggiano. Ah si? Eh si. Ti ho fatto caldo stasera. Diciamo quello di Heavy Rain, com'è che si chiamava? Heavy Rain, doppiatore. Si, che fa anche il presentatore. Oh, a piano di vostri acquatici oltre. Ma non mi viene in me. No, stiamo attenti. Ad esempio questo qui non lo posso prendere, vedi? Funzioni compatte non lo posso prendere. Ma guarda Sanculo, guarda. Ma che cazzo, c'era una Vespa proprio di fronte al... Ah. Al cosa. C'è uno infuocato. L'ha fatta partire te la radio? No. Eh, allora stiamo attenti perché c'è qualcuno. Lo senti? La senti la radio? Si. Eh, ci siamo passati davanti e... Io non l'ho fatta partire. Si è quella di che ci siamo passati davanti ora. Ho sentito... No. Madonna ti stavo per sparare, ho pensato. Noi ci siamo passati davanti quando siamo entrati qua. Si. Noi ci sono più. Vedi? Eccola qua. Non ci sono più. Allora forse non era questa, ce n'è un'altra. Noi. 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 che cazzo fanno che è oh che è un forcato non sta bene non sta bene e fa il bene è vero l'altro c'è qualcosa? Sì, c'è un fuocato. Comunque la radio io l'ho sentita distintamente eh. Sì sì, anche io l'ho sentita. C'è un corazzato laggiù. Spure che esplode se può funzionare adesso. C'è un corazzato. C'è un corazzato. Fa un casino su questi tetti. Ma no, guarda che numero che ho fatto. Che ho fatto? Tattato dal tetto qua. C'era la scala però. Adesso. Io vado sul sicuro. Aspetta faccio delle munizioni. Anche qui c'era quello di fuoco prima. C'era la scala. No, non mi muoviste. No, non mi muoviste. Buu, buu, buu. Senti là. Il bombolone. Il bombolone. E' un bombolone. No, non mi muoviste. No, non mi muoviste. Un zombie normale. Ma qui si sta tornando a dove siamo entrati però eh? hai visto? no dove sono di nuovo? se io ho visto dove io mi sono stato qua spara come se non ci fosse un domani ma qui c'è sempre il stato rotto in cura lì c'è sempre vero? sempre sempre non c'è ah io l'hai lanciato così non c'è che vederli bussati c'è una vera? stavo? ah cazzo non muore mai ma che cazzo hai infatti? vaffanculo un'altra? sì un'altra ah perché non muoia mai? perché prima con un colpa della testa muoviva? ah non so io ho sentito sparare prima quando l'avete sono zombie dove è l'indizio di merda? qua? sì bisogna entrare nel forte ingrazzato di merda ingrazzato di merda ingrazzato di merda i cani! i pazzo i cani vieni vieni qua ci saranno altri? boh andiamo a vedere non so nemmeno due cazzo è uscito 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 c'è le larve la donna me la senti addosso c'è una dinamite fa dei danni ah si penso di averlo ucciso penso di averlo ucciso in un colpo qua ci sono delle munizioni che è quello il mostro di carne che morto ma era il mostro di carne si tutto bruciacchiato tutto rotto dove è il prossimo più vicino a là più vicino a là non 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 Ok Qua andiamo a recuperare Stai facendo una vespa di merda o no? Qua andiamo! è pieno ma cazzo non mi sei passato non mi sono messo a colpo sono andato a tre quarti ma dove sono passato io no devo vedere le munizioni occhio eh che c'è un corazzato dove dietro la porta piglia la lanterna lì è dietro qua dietro ma all'esterno è qua dietro proprio dai vatti sposta no è scoppiato ma che danno guarda sta bruciando tutta la casa cazzo c'era il barile ma pure è venuto pure uno zombie toro io sono quasi morto guarda che fuoco bello il peccato è che non c'è hdr non ci sia hdr in sto gioco ormai i chiari e gli scuri è un più figo ma dipende devi andare da come è fatto beh non smette più c'era le armi qua sopra dove erano le va andiamo verso il colo no sono quasi peggio no sono quasi peggio tutto è questo è qua eh io sto cercando un po' di armi che sono veramente secco non c'è non tra lui è . vi come? non abbiamo incontrato neanche un caso uno si? ah si? si le ammazzate che lo mettevamo al fortino perchè giri con quella lampada? così attiro i nemici e te li ammazzi ah ok andiamo al posto no li tengo perchè per fargli capire non ho paura nemmeno del fuoco chi è? oh chi è che fa questo rumore finito? ha mostro di carro come si sale lì? oh qua la porta è già aperta qua la porta è già aperta però non ci dà vicino no no l'hai preso? si però era dell'assassino vaffanculo no è vero che cazzo non è vero? qua gli ambienti interni sono veramente grandi qua fuori con delle armi con delle armi con delle armi oh ma cosa non serve veramente a un cazzo sono le tagliole non serve a un cazzo stai zitto rompi i coglioni vespa vespe dove ho io spero qua a sinistra dai ancora allora l'altro l'hanno fatto a cazzo dove stavamo andando noi andiamo dall'altra parte allora bisogna tornare tutto indietro se lasciamo fare è così se se non vengono poi a far l'altra andiamo andiamo cazzo è animato 12 mostri andiamo andiamo questi sono quelli che stanno ammazzando il ragno comunque se si corre così ci sarà 12 mila mostri stanno attenti servo una vita si vai è dentro sta casa no è al massimo perché al massimo perché non me la dà l'ultima se non mi hai mai rianimato perché si è bruciata anche a 1 perché forse è bruciata quando bruciano si ripia poco poco no no non si ripida poco nulla le caro male no 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 se ti si brucia tutto rettangolino mi senti no se vuoi saputo no dove sei sono al mostro non ti ero più allora stavo andando io non sapevo che ti eri fermato no stavo citando un sigaretta ma che quando arrivi a questo punto della partita ci vuole dovrebbe anche una cucchiaiata di pandistelle però vabbè attenzione interessante dov'è oggi un fondo da volta ci sono degli zombie di occhio 2 qui c'è anche una una stronza un'altra bravo quante cazzo c'è che erano ah è una zanzala baschera anche presi dove stanno andando quelli ah no sbrigiamoci perché qua magari ci può scappare la sigaretta non non ah qua dentro ok honey si c'è anche il colo ecco ecco c'è un musli hand no è un colazzato non ce n'è c'è anche degli zombie vai l'ho bello e preso andiamo via vai lascia qui lascia qui dove è quello che fa quello ancora lì però l'ha presa anche l'altro la taglia come l'ha presa anche l'altro ho visto ho visto apparire c'è uno di fuoco lì no 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 ah si adesso anche mugo no ma l'ho no no la volevo smerzare con l'ast Space ah lì si che c'è quello di fuoco si ma come si fa a lanciare la ha ma guarda figo da un farsi l'oggetto ma passiamo di qua aggiamo che di qua la strada che ho fatto io non c'era nessuno quando sono andato a prendere è nello stesso posto ti ricordi dove andai a fare con la corsa è nello stesso posto armi non c'è un cassa come ho qualche cassa queste non lampeggiano vedi queste lampeggiano non sono blu che noi si attivi sto mostro sai c'è un colazzano di merda lascialo fare lascialo fare non facciamo il solito nostro errore da ingordi occhio si è morto cazzo bastardo non c'è nessuno non c'è nessuno dov'è il ragno qua dentro eh si lo trovai sopra il piano di sopra il cadavere cazzo 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 eccolo che cazzo fai fermo 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 levati vai questo è pieno proprio poi l'incastrata è incastrato è andato appena fanno ha tornato vai l'ho ripreso ma sparato il bileno che ha fatto io io quelli sanda dall'uscita sinistra ma anche verso di noi è occhio ma che cazzo fa volta a volta la cazzo no di nuovo avvelenato ma da dove e sparo una specie di ma da dove ma di nuovo avvelenato no ma ha tolto un'energia sto stronzo sì perché se non ti levi dalla nuvola avvelarti diamo un occhio anche agli altri stai all'onato su l'ho è l'ho Ma che cazzo fai? Ma perché? Perché c'erano le munizioni e non c'erano più. Ma quelli si avvicinano. Ma che c'erano? 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 No, se però ci stavo davanti a quell'altro. Ma che c'erano? No, sono qui. Cosa? Mi sono avvelenato. Ma che c'erano? Ma che c'erano? Ma che c strings? Molto? So, è evolutivo. Poi fai colo che stai, ma? Ma chi c'erano precisi? Se perdono Ma ci... Ma ecco! Ma, tenti. Ma anche successo che cazzo poi si stanno avvicinando quelli ci rispettano lì alla uscita lì in vicina non li fottiamo che andiamo dall'altra parte ah si dobbiamo andare giù dice no questa non buttiamo l'alcesso perché mi incazza l'hai presa il coso cosa? la taglia che taglia? del ragno non ti ho dato fuoco che c'è il rituale ah già oh cazzo stanno arrivando stanno arrivando? si boia che si fa? io non ho energia non ho più nulla per rigenerarmi e allora siamo fottuto allora chiudiamo mettiamogli delle trappole se ci sono questa è una giode di merda senti ma se gli si lasciasse si va via no così ci rischia di non perdere nemmeno un punto e questi sono aggressivi sono arrivati io caro ma ci sono? sono arrivati? si 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 stanno arrivando stanno arrivando che stronzino è possibile ma bastardi ma perché? potremmo uscire tranquillamente invece adesso li dobbiamo uccidere no il peccato è che io non ho un cazzo no niente non ho più energia ma ecco li sono arrivati sono dentro ma stai su te? eh si perché? eh perché così vedo da dove arrivo ecco li dove sono? eh no no li vedo eh no no li vedo no 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 mi senti? come mi senti? eh son qua da qui Ah si è Vai io la piglio subito Hai preso? Si Io sto scappando eh No sono qua bastardi Via 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 Dove stai andare giusto o di là? No Come no? Ma te basta che metti della strada tra noi e loro e poi così Che si fottano Vedi senti come sparta? Ok che c'è uno di fuoco Ah è giusto Dove stiamo andando? Si stanno inseguendo ancora Boh No no Non ci stanno inseguendo più aspetta Stanno incontrando della gente di merda Oh c'è uno infuocato Fa il giro largo Si si Stanno indietro di si Allora ma non stanno inseguendo noi Se noi stanno facendo punti Ah si Boh andiamo un po' più con calma No no però sono vicini eh Sono vicinissimi Perché se andiamo Loro pensano Noi si vada in quella sinistra Andiamo ancora più in basso Perché se no Noi ci troviamo Se no ci ritroviamo proprio Di taglio Capito? Così non ci fidano mai C'è una Vespa C'è una Vespa C'è una Vespa Non ho più un cazzo che purà E qua è giusto Qua? C'è un campo di grano eviterei C'è una Vespa Una Vespa Dove? No no non è una Vespa No no non è una Vespa No no sembra comunque che abbiano smesso di inseguirci eh Ma Sì Stanno andando verso l'uscita credo eh Ma se no ci stanno provando ancora Non fermiamoci comunque No no Forse pensa che noi giriamo verso Verso l'uscita più vicina Ma noi andiamo ancora più lontano Ma noi lo facciamo per loro Ma che Inoltre Ma che No Per me ha mai ancora un campo di starnia Guarda, hai già guardato la mappa Ah sì, loro stanno scendendo Oh i cani, i cani, porco dio C'è un mutuo di carne Va, sono fuggiti Oh, smetti di dapp Una posizione alta Ale E ho capito che sto stanguinando di brutto Come sono i cani? Qua Sono tutti da me Guarda, uno uccido Mica, ma se stessero un attimo fermi Sti figli di puttana Va, un altro uccido Non li vedo io da qua Cazzo so No, lo spingimento Io non ho più colpo Un altro uccido Manca uno Vai Ok Uccido Ci sono munizioni lì? No, ho trovato un cazzo C'è un mostro di carne Non ho sento di rischiare Guarda, andiamoci all'ora Di là, eh? Stavano per ammazzare Aspetta Che c'è? Ah no, il mostro di carne Che fa sto rumore Andiamo piano Andiamo piano Ah sì, tanto adesso non ci abbiamo più Non ho mostro niente Dove andiamo adesso a sinistra? Io qualsiasi essere che incontro Ma ammazza Qualsiasi essere che incontro Che fa danno Ma ammazza Aspetta, c'è un Nooo Nooo Perfino Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Sì Oh no Oh no Okay Sì Quasi Uh Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.